Il conservatore Juan Carlos Barrela vince le presidenziali a Panama, succede al miliardario Riccardo Martinelli. Barrela, vicepresidente e ex ministro degli esteri, ha ottenuto oltre il 60% delle preferenze, un risultato che ha ribaltato le previsioni della vigilia che lo vedevano terzo dietro al delfino di Martinelli Arias e al candidato socialdemocratico Navarro.